Una commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa Primitiva per verificare se sia possibile che le donne si occupino di quella particolare forma di servizio ecclesiale anche nel tempo attuale. A volere la sua istituzione Papa Francesco che ne ha parlato durante l'incontro con le religiose dell'Unione Internazionale Superiore Generali. Un lungo dialogo a braccio in cui sono stati affrontati i vari temi sul ruolo delle donne consacrate laiche sia all'interno dei processi decisionali nella Chiesa sia nella predicazione. E questo credo faccia parte di un cammino che stiamo facendo come Chiesa e che vede una costante maggiore presenza della donna anche in ruoli di leadership. Tra le altre cose si è discusso anche della possibilità di creare un gruppo di studio per approfondire la possibilità del diaconato alla donna. Rispondendo ad una precisa domanda il Pontificio si è detto disponibile a interessare della questione un'apposita commissione che chiarisca il ruolo delle diaconesse nella Chiesa Primitiva. Agli inizi del cristianesimo esisteva una forma di diaconia al femminile di cui parla anche San Paolo documentata poi fin dal III secolo con le diaconesse che aiutavano il presbitero ad amministrare il battesimo alle donne. Non avrebbero ricevuto quindi un ordine sacro come accadeva per i maschi ma comunque un apposito rito di consacrazione. Tra i compiti che potrebbero svolgere oggi rientra certamente l'annuncio della parola, il servizio ai poveri, la distribuzione dell'eucaristia, la gestione di strutture ecclesiali ed opere di carità. Per quanto riguarda invece la possibilità di tenere l'omelia durante la messa il Papa la esclude perché legata alla celebrazione propria del sacerdote. Infine Francesco mette in guardia le donne dalla tentazione del femminismo e da quella del clericalismo dicendosi però d'accordo a un aumento delle responsabilità a vari livelli da parte di personalità femminili nei casi in cui non sia prevista la giurisdizione connessa all'ordine sacro.